Questa è una delle scene più rocambolesche, più creative, più forti, figlie dell'Orlando Furiosa. Quando Astolfo, un eroe di quelli carolingi, va a cercare il senno, cioè l'intelligenza, il cervello di Orlando, sulla luna. Leggiamo l'introduzione. Astolfo, spinto dalla sua curiosità, ingruppa l'ippogrifo, vola per diverse parti della terra e giunge in Etiopia, di cui il re Senapo, il paladino, mediante il suono del suo corno magico, ingrandiamo un po', scaccia le mostruose arpie che tormentano il re e le insegue sino all'entrata di una grotta. Di lì scende nell'inferno. Qui incontra un'anima dannata, Lidia, che fu ingrata e crudele verso l'uomo che l'amava. Con l'ippogrifo vola poi fin sulla vetta del mondo e del paradiso terrestre. In uno splendido palazzo e accolto ammabimente da San Giovanni Evangelista, questi gli rivela che Dio ha voluto farlo giungere fin lì per affidargli una missione, quella di salvare Re Carlo dalla sconfitta. Così lo svagato peregrinare di Astolfo muta carattere e prende le forme di una missione provvidenziale. San Giovanni gli spiega che Orlando è stato punito da Dio con la perdita del senno perché si è sviato dal giusto cammino, venendo meno i suoi doveri di difensore della fede per amore di una pagana. Ma ora il periodo di punizione è terminato e il compito di Astolfo è restituire il senno ad Orlando. Per far ciò occorrerà salire sulla luna dove si raduna il senno perduto degli uomini della terra. San Giovanni stesso conduce Astolfo sul carro del profeta Elia al di là della sfera di fuoco sin sulla luna. Siamo al canto 34esimo dell'Orlando Furioso, le ottave 70-87. Come sappiamo l'Orlando Furioso è scritto in ottave, che rimano a rima alternata alle prime sei, a rima baciata alle ultime due. Tutta la sfera varcano del fuoco e tindi vanno al regno della luna. Veggon per la più parte esser quel loco come una char che non ammacchia alcuna, e lo trovano uguale o minor poco di ciò che in questo globo si raguna, in questo ultimo globo della terra mettendo il mar che la circonda e serra. Qui vi ebbe Astolfo doppia maraviglia che quel paese appresso era sì grande, il quale a un picciol tonno rassimiglia. A noi che lo miranda queste bande e caguzzar con vie gli abbe le ciglia, sin di la terra e il mare che intorno spande, di Scherner Wall che non avendo luce l'immagine loro poco alta si conduce. Altri fiumi, altri laghi, altre campagne sono lassù, che non son qui tra noi, altri piani, altre valle, altre montagne, che alle città hanno i castelli suoi. Con case e delle quai mai le piumagne non vide il paladin prima né poi, e vi son ampie e solidarie selve, ove le ninfe ogni or cacciano belve. Non stette il duca a ricercare il tutto, che là non era sceso a quello effetto. Dall'apostolo santo fu condutto in un vallon tra due montagne stretto, ove mirabilmente era ridutto ciò che si perde, e per nostro difetto, o per colpa di tempo o di fortuna, ciò che si perde qui, là si ravuna. Non pur di regno o di ricchezze parlo, in che la ruota instabile lavora, ma di quel che in poter di tordi darlo non ha fortuna a intender voglio ancora. Molta fama è lassù, che come tarlo il tempo a lungo andar qua giù di ora, là su infiniti prieghi e vuoti stanno, che da noi peccatori a Dio si fanno. Le lacrime e i sospiri degli amanti, bellissimo questa parte qua, dice tutto quello che si perde, tutto quello che si perde si trova sulla luna. Cosa si trova sulla luna? Le lacrime e i sospiri degli amanti, l'inutil tempo che si perde a gioco, e l'ozio lungo, do uomini ignoranti, vani di segni che non ha mai loco. O vani desideri, sono tanti, che la più parte ingombrano di quel luogo, ciò che insomma, qua giù perdesti mai, lassù salendo ritrovar potrai, tutto quello che hai verso qua giù, ritroverai lassù. Devo andare alla pagina successiva, ok? Ami d'oro e d'argento, appresso vede, in una massa che erano quei doni, che si fanno con speranza di mercede al re, agli avari principi e padroni, vede in ghirlande, a scosi lacci, e chiede, e tode, che sono tutti all'odulazione, di cicale scoppiate immagini hanno, versi che laude dei signori si fanno. La cosa è bella, lo so che io lo sto leggendo malissimo, perché non è una lingua contemporaneissima, però è bellissimo, gli ultimi due versi qui, sembrano delle cicale scoppiate, i versi che si fanno in lode del signore, tutte le cose odulatorie, che si scrivono in lode di un signore, hanno l'immagine di cicale scoppiate, ma lo stesso Orlando Furioso, è scritto in lode dei signori d'Este, quindi fa l'ironia su se stesso, in pratica. Di nodi d'oro e di gemmati ceppi, vede che han forma i mal seguiti amori, veran d'acquile artigli, e che fur seppi, l'autorità che ai suoi danno i signori, i mantici che intorno han pieni greppi, sono i fumi dei principi e i favori, che danno un tempo ai ganimè di suoi, che se ne van col fior degli anni poi. ruine di cittadini e di castella, stava con gran tesor qui vi sozzopra, domanda, e sa che son trattati, e quella congiura che si malparno, che si cuopra, vide serpi con faccia di donzella, di monetieri e di ladroni l'opra, poi vide bocce rotte di più sorti, che era il servir delle misere corti. insomma, e sta enumerando, spero che ci capiate qualcosa, però tradurlo non ha senso, perché noi dobbiamo entrare in quella che è la lingua di Ariosto. cercate di capire il senso, non le singole parole, come quando sentite parlare inglese, e pian piano l'orecchio si abitua a quello che si dice, voi cominciate a capire la lingua, ma non perché capite le singole parole, ma perché cogliete il tutto. Insomma, qua sta parlando, sta enumerando tutte le cose che si perdono a questo mondo, e che vanno a finire sulla luna. Diversate minestre una gran massa vede, e domanda al suo dottor che importe, l'elemosina è, dice, che si lasse alcun che è fatta sia dopo la morte, di vari fiori, ad un gran monte passa, che beggià buon odor, or putia forte, questo era il dono, se però dir lecce, che Costantino al buon Silvestro fece. Vide gran copia di pane e convisco, che erano donne le bellezze vostre. Vide le bellezze delle donne, che sapete, sono cose che si perdono, la bellezza si perde. Lungo sarà, se tutte in verso ordisco, le cose che qui vi dimostre, che dopo mille e mille io non finisco, e vi sono tutte le occorrenze vostre, se la pazzia non ve poca né assai, che sta qua giù, né se ne parte mai. dice che la pazzia c'è, non c'è, non c'è per nulla, né poca, né tanta, ma proprio non c'è, perché la pazzia rimane sulla terra, non se ne va sulla luna, non si perde la pazzia. qui vi ad alcuni giorni e fatti sui, che egli già avea perduti, si converse, che se non era interprete con lui, non di scemea le forme lor diverse, poi giunse a quel che parsi averlo a noi, che mai per esso a Dio voti non ferse. Io dico il senno, e ne era qui vi un monte, solo assai più, che l'altre cose conte. Dice il senno umano, l'intelligenza umana, il cervello degli uomini, era qui in grande massa, perché quello che si perde sopra, cioè la pazzia non c'era, perché la pazzia rimane sulla terra, ma il senno, ce ne erano montagne. Era come un licor sottile e molle, atto e salara, se non si tiebbe in chiuso, e si vedea raccolto in varie ampolle, qual più, qual meno incapace, atte a quell'uso, quella è maggior di tutte, in che del folle signor danglante era il gran segno infuso, e fu dall'altra conosciuta quando avea scritto di fuori Senno d'Orlando. Alla fine trova questa ampolla con il Senno d'Orlando, sopra c'è scritto, c'è proprio l'etichetta Senno d'Orlando. Questo è il brano che volevamo leggere e che continua qui in altre ottave che leggerete voi andandovi a cercare il testo. E qui finisce il mio video e vi saluto.